Il rettore, che voi lo sappiate, è dalla nostra parte, perché si è sbilanciato dicendo che se fosse per lui cederebbe la facoltà di agraria, però non può, lui non può scegliere, lui è costretto, lui è solo il rettore. Lui si è anche affezionato a tutti noi e gli spiacerebbe tanto perderci, però come avrete capito come rettore non conta nulla e quindi non dipende da nulla. Sui studenti, della Seneo e Statale, indipendentemente dall'appartenenza delle facoltà, ma come ne ho toccati da questa decisione di spostare l'ingua a Ragusa, lanciamo una campagna forte per le dimissioni del rettore Antonio Alcaldi. Però come il rettore va in televisione e dice che c'è una lista libera, che si chiama Università Libere ed Eccellente, noi senza fare appelli ad andare tutti a votare, a essere, non a variare i seggi, facciamo un semplice appello e questo penso che lo condividiamo tutti. Chi ha a cuore l'Ateneo di Catania e chi schifa profondamente il rettore Antonio Recca non deve assolutamente votare la lista di università Libere ed Eccellente. Volevo soltanto portare la mia testimonianza a quello di cui ha già parlato Matteo sulla questione della lista del rettore. Appunto come diceva ci sono, girano queste voci su questi studenti candidati e io porto la testimonianza di un mio caro amico col quale stiamo tentando di fare una documentazione video in cui lui ci spiegherà cosa gli è successo e come gli è stato proposto di candidarsi. Ora, quello che noi sappiamo, che vi dico pubblicamente, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, è che lui è stato contattato direttamente da un professore e poi gli ha detto di pensare a candidarsi e probabilmente in cambio del suo tempo avrebbe avuto qualche agevolazione, qualche favore in sedi di vario tipo. Noi ovviamente queste parole le testimonieremo appunto con l'aiuto di questi ragazzi che hanno dato, stanno dando il loro contributo per rendere pubblica. Questa che è una secondo me delle cose più vergognose che si stiano svolgendo durante questa questione. E noi abbiamo, stiamo subendo un attacco sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista insomma economico, l'aumento delle tasse, la diminuzione dei corsi di studi, la chiusura delle menze eccetera, e noi abbiamo un unico strumento ufficiale, che non è quello appunto assembleare, che si sta dimostrando comunque molto forte, per contrastare la forza di rettori, professori, baroni e così via, cioè quello dei rappresentanti e studenti. Noi sappiamo che ad esempio nella mia facoltà di scienza hanno ridotto il numero dei rappresentanti da 9 a 7, per rendere ancora più inutile praticamente la nostra presenza nel Consiglio. E se questo non bastasse loro stanno anche infilando i loro, insomma stanno mettendo le mani anche sui nostri rappresentanti e studenti, per controllarci in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi nuovamente io rilancio l'appello che ha fatto Matteo di fare quelle suole, votare, non votare, ma non votare questa lista e si chiama Università Libere d'Eccellente, che è veramente l'aberrazione, una cosa vergognosa che deve essere denunciata in tutto l'Ateneo. La mia proposta all'assemblea per chiudere è che a partire da adesso venga indetta un'occupazione dei Benedettini a tempo indeterminato. Ritendo che un'occupazione significa alcune cose. Primo, momenti assembleari ovviamente come questo, e su questo non si discute. Secondo, un presidio permanente, che però non può essere confuso con l'occupazione in genere, perché altrimenti succede una cosa molto semplice. Molti studenti, come già da metà di voi, vanno a casa. Ora, io credo che l'obiettivo di un'occupazione di questa sia quello di mantenere alta la mobilitazione, non di stabilire, diciamo, io qua ci sto e ci metto il mio cappello, no? Bisogna mobilitare la maggior parte, la grande massa di studenti. Quindi in questa occupazione, ripeto, due momenti diversi, l'assemblea e il presidio, e anche una serie di iniziative che debbono essere interne a ciò che si fa nella facoltà di lingua. Per cominciare, buoniamo, no? Da seminari, lezioni, di questo tipo, no? Perché questo è l'unico modo, quello di tenere gli studenti dentro l'università, è l'unico modo, l'unico modo che vi avviso di tenere alta la mobilitazione. Dopodiché, ovviamente, io taccio e sono un mio contributo assembleare. Di poco un problema, non fate strumentalizzare a chi lo vuole questa vostra protesta, perché siete alla fine dell'anno accademico. Non permettete a nessuno poi dire, dire a voi, a voi con la vostra protesta, è la giusta protesta, Noi siamo insieme a voi, avete salutato l'anno accademico. Per questo, io, come professore di prima, vi chiedo soltanto di esprimere il vostro diritto dello studente, ma anche il vostro dovere dello studente, che è uno studio. L'unica cosa che sapevamo è quello che sanno tutti quelli che hanno parlato come studenti con il rettore, che lui, al di là del dialogo che dice di avere quegli studenti, impone, o almeno vuole imporre, agli studenti di fare solo le domande che decide lui. E' un bel papà quello che dialoga in questa maniera con i suoi figli. Comunque, si è permesso di non rispondere a moltissime domande. Ha limitato i nostri interventi a un massimo di tre minuti e ha chiesto di evitare comizi. Uno dei primissimi interventi, però, è stato quello di un altro rappresentante che oggi non è presente perché dice di rappresentare i studenti di un'altra sede, che ha parlato per un quarto d'ora producendo un'accusa al preside famoso. In particolare, non si è soffermato sulla questione della didattica, non si è soffermato su nulla. Ha voluto semplicemente aprire una polemica, una polemica che comunque avrà le sue conseguenze, con il nostro preside. E basta, ha fatto solo questo. Comanda, pianta la mano, giusto adesso a favore, si impegna a rimanere, è chiaro. Grazie mille. Grazie mille. E' chiaro. Grazie.